Io chiedo scusa, non sono abituato a mischiare dei fatti personali con le questioni politiche. La prima non è un fatto personale, ma è un fatto politico. L'unico modo di tenere il governo in piedi è sparare, sparare contro le cose indecenti. Spero che Nitto Palma non sia nominato Presidente della Commissione di Giustizia. Allora vorrei dire due cose. Quando si accusa una persona di indecenza si deve avere il coraggio di spiegare perché. E a fronte della necessità per tutti di abbassare i toni, sarebbe opportuno che tutti lo facessero. Ed è inutile poi dire che non si spara con le pistole ma si sparano parole affermando di avere sempre sparato con le parole in modo garbato perché non mi pare che sparare, specialmente dopo l'episodio di Palazzo Chigi, sia una parola garbata. Non credo che il Presidente Berlusconi consentirà a chi ha fatto questa dichiarazione di sostenere con lui una conversazione. Sono stanco di essere insultato in questo modo. Sono parole o quant'altro non mi interessa. Ho vissuto 25 anni blindato quando le cose che mi dovevano arrivare addosso non erano parole ma erano proiettini. Ora dai nuclei armati rivoluzionari, cioè ai terroristi di destra, ora dalle brigate rosse, cioè ai terroristi di sinistra, ora dalla mafia, ora dall'endrangheta, ora dalla camorra. Non mi metto paura di nulla. Grazie.